Se facciamo un blues, non c'è la voce fuori, gente, ehi, ehi, voce, 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 sul palco non c'è molta voce, così va bene poi c'è la voce, noi facciamo un blues in italiano, sono tutti i brai originali, diamo il nostro contributo in questo modo, insomma ci chiamo di, Il mio brano è il Capitano Ajab. 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 Il Capitano Ajab. Il Capitano Ajab. Il Capitano Ajab.